Prima del rientro anticipato Il direttore generale d'Eboli stanno vagliando alcune possibilità Sempre aperto il discorso con il Parma per nuovi arrivi Mancano 3-4 giocatori almeno per completare il quadro Prima degli ultimi accorgimenti che saranno messi in piedi negli ultimi giorni del mercato Avrebbe addirittura avanzato l'ipotesi di dimettersi il tecnico della Salernitana Mario Somma Dopo il battibecco furioso col giocatore del Parma Paletta In occasione dell'amichevole dell'altra sera giocata d'Eboli Poi la rabbia sfumata, tutto è rientrato Di certo l'allenatore è sembrato troppo su di giri Forse comincia a sentire addosso la pressione Consapevole che la squadra non è ancora completa E che la piazza chiede tanto, chiede la promozione Inutile girarci attorno La Salernitana nel girone C, così come è stato strutturato Resta una delle candidate al successo finale Ma non sarà affatto semplice perché le insidie sono numerose Il rischio di giocare tanti in match senza l'apporto del proprio pubblico notevole Mercato, Ciani potrebbe essere il nuovo centravanti Sforzini rimane un'idea Ma le cifre non si abbassano e Lotito ha pure altro, tanto altro cui pensare Intanto, ingaggiato dal Parma, il centrocampista Gian Donato Grazie a tutti Grazie a tutti